Benvenuto a Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Io voglio sentire Gubitosa. No, io voglio dire che oggi che il reddito di cittadinanza non c'è più, abbiamo le imprese che continuano a dire che non trovano i lavoratori, i lavoratori che continuano a dire che non trovano il lavoro e abbiamo un dato certo, che la povertà in Italia è aumentata. Da 5 milioni a 6 a 5 milioni a 7. Quindi il problema c'è. E questo governo che si riempie sempre la bocca di aziende, creare lavoro, creare lavoro, cosa ha fatto per le aziende? Io sono d'accordo che le aziende creano il lavoro, sono d'accordo che lo Stato deve aiutare le imprese, ma cosa ha fatto? Tagli su tagli anche alle aziende. Se parlate con le imprese vi diranno che questo governo non ha fatto nulla. E allora io dico, la povertà in Italia c'è. E' qualcosa, uno strumento si deve adottare. Cosa ha fatto questo governo? Ha detto che il reddito di cittadinanza era un fallimento. E con cosa quello ha sostituito? Con il nulla. Ha detto che noi per le imprese avevamo fatto strumenti sbagliati, come il Superbonus, come Industria 4.0. E con cosa li ha sostituiti? Con il nulla. Quindi ha preso questi soldi, li ha tolti dicendo che noi li abbiamo dati in maniera sbagliata, e con cosa li ha sostituiti? Con il nulla. E ha messo questi soldi sul ponte, sullo stretto 15 miliardi, magari in armi. Ecco, questa è la soluzione di questo governo per questo Paese. Togliere i soldi alle aziende, alle imprese, ai cittadini, alla fascia povera del Paese. E che cosa fare? Non tassare le banche, non recuperare 10 miliardi di euro tra banche e società energifere, perché ha fatto la nostra tassa che avevamo fatto per gli extra profitti, l'ha modificata dando la possibilità alle banche di non pagare queste tasse. Ecco, noi siamo contro questa linea, siamo contro queste manovre, lacrime e sangue, e crediamo che degli strumenti, sia per le imprese, che per la fascia povera del Paese, vadano trovati.